Ben trovati venerdì 17 luglio 2020, come già annunciato ieri nel telegiornale oggi approfondiamo quella che è la situazione dell'ospedale di Agropoli dopo la denuncia soprattutto di alcuni utenti in merito ad alcuni disservizi presso il nosocomio agropolese. Vediamo subito il primo servizio. Lunghe ore di attesa, assistenza scarna e poca organizzazione. È questa la denuncia di un cittadino agropolese sull'esperienza avuta da lui e sua moglie al pronto soccorso dell'ospedale civile di Agropoli, che ad una settimana dalla riapertura presenta ancora varie criticità. La vicenda è accaduta all'inizio della settimana. Mia moglie si è recata in pronto soccorso e alle ore 8 e 30 in seguito ad una brutta botta al mignolo dopo la radiografia è stata fatta attendere fino a mezzogiorno per avere un esito. Chi si è presa cura di lei non sapeva nemmeno dove portarla nella struttura, ha vagato per l'ospedale per più di un'ora. Una volta avuto l'esito ho dovuto lasciare il lavoro per recarmi a Vallo della Lucania vista la mancanza di un ortopedico ad Agropoli. Mia moglie ha riportato una frattura scomposta e dovrà essere operata. Non mancano anche altre testimonianze da parte di altri cittadini riguardanti l'impossibilità di fare radiografie nelle ore serali in seguito a delle cadute visto che la radiologia è attiva fino alle ore 20. È il caso di un'altra cittadina di Agropoli che sempre in settimana intorno alle 21 e 30 si è recata presso il pronto soccorso in seguito ad una caduta. Alla richiesta di assistenza il personale del pronto soccorso ha risposto che bisognava portare la donna a Vallo della Lucania perché il reparto di radiologia è funzionante fino alle ore 20. Frattura al metatarso questa la risposta del referto medico al San Luca di Vallo della Lucania. La donna attualmente è ancora nel pronto soccorso del presidio ospedaliero vallese in attesa della visita dell'ortopedico. Al momento nel nosocomio agropolese non si effettuano radiografie dopo le 20 ma non c'è neanche la possibilità di essere ingessati. I problemi nella struttura appena riaperta dal governatore Vincenzo De Luca non sembrano voler terminare. le critiche sulla funzionalità e sui disagi della struttura sono ormai sempre più insistenti. A questo evidenzia ancora di più lo stato di precarietà nel quale è stato attivato il presidio ospedaliero di Agropoli. Delle novità e delle promesse tanto decantate riguardo la struttura nemmeno l'ombra per ora solo criticità e malumori e cosa ancora più triste dopo le 20 il nulla. In merito all'ospedale di Agropoli abbiamo raggiunto il consigliere regionale Franco Piccarone per alcuni aggiornamenti. Vediamo. Siamo in collegamento con Franco Piccarone consigliere regionale per un aggiornamento sulle attività e sui servizi dell'ospedale di Agropoli soprattutto in virtù di alcuni disservizi denunciati da alcuni utenti e quindi dopo l'inaugurazione diciamo così la presenza del governatore De Luca di circa una settimana fa ritorniamo a parlarne e lo facciamo con il nostro referente. Franco allora ci sono degli aggiornamenti in merito? Allora io penso che ci dobbiamo chiarire su una cosa, sull'ambito dei servizi che sono attribuiti all'ospedale di Agropoli che sono quelli che hanno dato vita all'inaugurazione. I servizi sono radiologia H24, laboratorio H24, pronto di primo soccorso, anestesia e rianimazione per sei posti letto, medicina generale, servizio di cardiologia e chirurgia quick surgery. Ora questi sono i servizi che sono stati attivati, è stato reclutato tutto il personale relativo, i radiologi, infermieri eccetera eccetera, quello che manca è un completamento di reclutamento di cardiologi, per il resto non sono previsti altri servizi, questo bisogna precisarlo. Per quanto riguarda la reclamata rete di emergenza, devo dire che l'ospedale di Agropoli non è inserito nella rete di emergenza, l'ospedale di Agropoli ha sei posti letto di terapia intensiva. Questo che significa? Significa che si può andare con mezzi propri per essere al pronto soccorso, dopodiché si viene stabilizzati e poi smistati. Questo è il quadro delle attribuzioni nuove che sono state fatte per l'ospedale di Agropoli per consentirne la riapertura. E questo è il quadro, quindi su questo bisogna chiarirsi. Per quello che riguarda la questione dell'ortopedia non c'è mai stata una previsione relativa all'ortopedia. Poi ci sono gli altri servizi che già sappiamo, i disturbi alimentari, le altre cose che già sappiamo che già esistono nell'ospedale di Agropoli. Però mi sembra nel quadro di una situazione l'ospedale di Agropoli era stato violentemente chiuso, non mi sembra che sia un qualcosa da nulla o da poco. Oggi abbiamo un presidio sul territorio importante che riprende un insieme di attività molto, molto, molto importante. Teniamo conto che siamo ancora in fase di osservazione, sia pure siamo usciti dal commissariamento. Invece per quanto riguarda alcuni medici attualmente che lavorano ancora in Alpi e quindi spreco di denaro pubblico, diciamo così, è l'opinione di alcuni cittadini che ci hanno contattato. Che cosa ci puoi dire? Ma io dico che siamo in fase estiva, abbiamo recuperato le risorse che potevamo recuperare. Se per garantire dei servizi si deve mantenere un livello di Alpi e purtroppo finché non si recuperano tutte le risorse potrebbe essere opportuno. Adesso non so lei a che cosa si riferisce specificamente. Probabilmente per esempio fino a che non si recuperano i cardiologi per i servizi di cardiologia potrebbe essere previsto l'Alpi oppure per altri servizi. Se magari mi fa sapere quali sono quelli specifici vediamo di capire il perché. Io prima di parlare con lei ho avuto un confronto con il direttore generale che mi ha detto che deve completare il reclutamento soltanto per quanto riguarda la cardiologia. Non so se per alcuni servizi hanno risolto attraverso l'Alpi. Questo non glielo so dire ma lo approfondirò. Anestesista e rianimatore ci hanno insomma… E quindi avranno qui qualche problema di risorse che recuperano in questa maniera probabilmente. Quindi allo stato attuale possiamo fare il bilancio dei nuovi arrivi in termini di infermieri e medici ad Agropoli? Mi hanno riferito che hanno reclutato tutto quello che c'era da reclutare per quanto riguarda gli infermieri e i radiologi. Questo mi hanno detto. È tutto completo. Cambiamo argomento. Adesso parliamo di Covid-19. A Casalvelino positivi il figlio e l'abbadante dell'anziana signora appunto contagiata. Ma vediamo il servizio. Si sono registrati nella giornata di ieri altri due positivi nel Cilento, oltre ai casi accertati dall'ASL per quanto riguarda le persone contagiate nella città di Capaccio Pestum. Gli ultimi due casi riguardano il figlio dell'anziana donna di Casalvelino ricoverata nel reparto di medicina generale sabato scorso per un blocco intestinale a San Luca, dove è stato fatto per Prassi, il tampone che è poi risultato positivo al Covid e dalla badante che vive con l'anziana donna. Erano stati fatti sette tamponi ai contatti stretti della donna di questi. Fortunatamente soltanto due sono positivi. L'anziana fa sapere il figlio, risponde bene alle terapie e si notano dei miglioramenti, seppur minimi. Come la scorsa volta ci tiene a sottolineare anche in questo post, desidero rassicurare amici, parenti e clienti, la carica positiva del virus dovrebbe essere abbastanza bassa, in quanto è riuscita a contagiare solo le due persone che sono state maggiormente a contatto con lei e nemmeno la moglie e la figlia di mio fratello, che vivono nella stessa casa. In più, come già detto in precedenza, all'interno dell'ambiente lavorativo abbiamo sempre osservato scrupolosamente le normative anti-Covid-19 e conclude il suo post su Facebook con una preghiera. Vi chiedo un grande gesto di umanità e sensibilità da parte vostra. Cercate di non mettere all'agogna persone trovate coinvolte in situazioni capitate senza colpa. Serve sangue zero negativo ad Agropoli, l'appello di una cittadina. Il servizio. Serve sangue zero negativo, è l'appello di una famiglia di Agropoli ai cittadini e donatori di sangue. Mia madre è ricoverata presso il San Luca di Vallo della Lucania e necessita di trasfusioni continue. Chi può, compia un gesto d'amore e solidarietà. E' questo l'appello disperato di una cittadina agropolese alla comunità affinché possano essere garantite ogni giorno a sua madre le trasfusioni necessarie. In questo momento, fa sapere il presidente dell'Avis di Agropoli, Rosario Capozzolo, c'è necessità di sangue presso il nosocomio vallese. Chiunque voglia donare può farlo recandosi presso la nostra unità di raccolta in Viale Lombardia numero 53, dalle ore 8 alle ore 12 ad Agropoli oppure all'ospedale di Vallo della Lucania. I giorni di raccolta ad Agropoli sono il lunedì, il giovedì e questa settimana anche sabato 18 presso Piazza della Repubblica con l'Associazione ADMO e domenica 18 luglio in sede, sempre dalle ore 8 alle ore 12. Per qualsiasi informazione è possibile contattare i numeri 345 83 89 667 oppure 0974 27 17 750. Donare sangue fa bene anche al donatore, non perché si sottopone a un salasso utile per le malattie da accumulo di ferro nel sangue oggi poco praticato, ma perché l'azione del donatore comporta una presa di coscienza dell'individuo che è stimolato a mantenere uno stile di vita sano. Donare sangue quindi vale il doppio perché salva la vita a chi riceve il sangue e mantiene sano il donatore. Infatti il sangue raccolto prima di arrivare al letto del paziente è controllato sia per scoprire la presenza di virus infettivi che possono trasmettere epatiti e AIDS, sia per scoprire valori ematochimici che possono rilevare malattie del donatore. Basta davvero poco per salvare una vita. Admo Campania e Avis Agropoli organizzano per sabato 18 luglio in Piazza della Repubblica nei pressi del municipio di Agropoli a partire dalle ore 18 fino alle ore 23 l'iniziativa Insieme per una vita nuova. A distanza di mesi l'associazione Admo Campania ritorna nella città di Agropoli e ricordiamo che lo scorso anno nel mese di giugno l'Admo presenziò in Piazza Vittorio Veneto per l'iscrizione al registro Admo come donatore di midollo osseo e per i test di tipizzazione per sostenere anche la battaglia del piccolo Gabriele che oggi è un bambino felice grazie al gesto d'amore del suo donatore. L'unica cura efficace contro molte malattie del sangue come leucemie, linfomi e mielomi consiste nel trapianto al midollo osseo. Purtroppo solamente una persona ogni 100.000 è compatibile con chi è in attesa di una nuova speranza di vita. Nell'occasione è possibile anche fare un altro gesto importante ovvero donare il sangue grazie alla presenza dell'Avis di Agropoli. Ci spostiamo adesso su Castellabate, disagi per la riapertura a giorni alterni dell'ufficio postale. Spinelli ha scritto alla direzione di poste italiane, come già detto ieri nel telegiornale, insistendo molto e attendendo ulteriori notizie nelle prossime ore. È tutto per questa prima parte, noi ci vediamo subito dopo la pubblicità. A tra poco! Letisane di Zara, prendersi cura di te, è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Letisane di Zara, info 333 90 26 266. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Centro polifunzionale Elysium, piscina semiolimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Centro polifunzionale Elysium, via lento Agropoli Salerno. Info e elysium4u.it Risarcimenti Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Risarcimenti Italia, via Mattine 5, centro Le Torri, Agropoli Salerno. Villa Franca, a Domignano Scalo. Per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24, svolta da infermieri professionali. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno. Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattine ad Agropoli, abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, profumeria fornitissima delle più grandi firme. Gruppo Riflessi, abbigliamento e profumeria, via Mattine, Agropoli. Prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD, passione, tradizione e competenza. Buona spesa Italia! Riapriamo con Agropoli. Per quanto riguarda il Lido Azzurro è arrivata una nuova sentenza sulla diatribas tra Scalzone e il Comune di Agropoli. Vediamo il servizio. È arrivata l'ennesima sentenza del Tar nella lunga vicenda fra Carlo Scalzone, titolare del Lido Azzurro, e il Comune di Agropoli. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania in questo caso ha sentenziato riguardo il ricorso presentato da Scalzone per l'annullamento delle ordinanze del Comune datate 2019, di sospensione dell'attività di ristorazione del Lido Azzurro e di demolizione di alcuni dei locali dello stabilimento considerati abusivi. Carlo Scalzone si è opposto a queste ordinanze, ma il Tar ha giudicato il suo ricorso infondato vista l'acclarata abusività di tre manufatti su cinque presenti nello stabilimento. Sulla vicenda era intervenuto anche il Consiglio di Stato, che aveva negato all'imprenditore la sospensione di una prima sentenza del Tar. Il Tar quindi si è pronunciato definitivamente sul ricorso e condannato Scalzone al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Agropoli. Quest'estate la storica pizzeria del Lido Azzurro, risalente e attiva dagli anni 70, non aprirà. Ritorniamo a Castellabate, organizzazione del porto di San Marco. È stata emessa un'ordinanza sindacale in linea con le misure per la prevenzione sanitaria. Il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, ha emanato l'ordinanza numero 30 del 15 luglio 2020, che mira alla riorganizzazione delle aree degli specchi d'acqua, non in regime di concessione demaniale marittima del porto di San Marco. L'atto stabilisce di assegnare tali aree ed esercenti di attività con sede a Castellabate, al fine di assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi, di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni sul porto e di evitare eventuali gestioni abusive dei tratti di banchina liberi da concessione, in linea con quanto stabilito alla Regione Campania con ordinanza 61 dell'8 luglio 2020. Verranno a tal fine raccolte le manifestazioni di interesse che gli interessati dovranno compilare e trasmettere all'Ufficio Governo del territorio e demanio, protocollando la documentazione necessaria riportata nel modello di domanda legato all'ordinanza entro le 13 del 22 luglio 2020. Quindi il Sindaco Costabile Spinelli ha dichiarato in merito, avevo già formulato da tempo l'istanza alla Regione Campania per la disciplina di queste aree. Oggi con l'ordinanza riusciamo ad avviare la manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici locali per la gestione di tutte le aree prive di concessione al fine di assicurare una corretta fruizione del porto di San Marco e di fornire una valida opportunità in questo difficile momento che anche questo settore sta attraversando. E ora parliamo di spettacolo. La legge in Regione Campania è quindi approvata la nuova misura di attuazione in deroga per il 2020. La giunta regionale, su proposta del Presidente Vincenzo De Luca, ha approvato nella seduta di ieri le misure di attuazione in deroga per il 2020 della legge regionale 6-2007, disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo per sostenere e rilanciare interventi di sostegno e promozione dello spettacolo duramente colpito dalla emergenza Covid-19 in Regione Campania. Dopo un confronto con le associazioni di categoria, la Regione ha adottato nuove misure per la semplificazione delle procedure ordinarie per l'erogazione dei finanziamenti del comparto, così da garantire maggiore efficacia degli interventi rivolti al rilancio del settore. Con le misure di attuazione sono semplificate le procedure di assegnazione e di rendicontazione dei contributi, viene previsto un meccanismo di erogazione delle economie, la copertura di ulteriori costi e considerato il periodo di fermo delle attività durante il lockdown e la parziale e diversa ripresa delle stesse si deroga per l'anno in corso ad alcuni requisiti previsti dalla legge e dal registro degli operatori dello spettacolo. Si tratta di un provvedimento che conferma gli impegni assunti dalla Regione nel confronto con gli operatori dello spettacolo. Dopo solo 20 giorni dall'approvazione della norma che consente di intervenire in deroga, l'amministrazione regionale ha adottato misure che garantiscono risorse certe in tempi certi, semplificando tutte le procedure di assegnazione e rispettando al contempo i principi di un'azione amministrativa rigorosa ed efficace nell'uso dei fondi regionali. Parliamo adesso di Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni, che rilancia il turismo nelle aree interne e sostiene economicamente gli operatori turistici del territorio. Con gli incentivi economici agli operatori turistici il Parco Nazionale del Cilento si pone l'obiettivo di valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico dei cosiddetti comuni montani del Parco. Tali incentivi economici verranno erogati agli operatori turistici che faranno soggiornare nelle aree interne del Parco almeno due persone per pernottamenti, almeno per due notti nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 31 dicembre 2020. Il voucher destinato agli operatori turistici può arrivare fino a 100 Euro per ciascun soggiorno da tre notti in poi. Attraverso questa iniziativa l'ente Parco vuole dare un segnale di fiducia al settore economico legato al turismo e dall'altro intende valorizzare e far conoscere il patrimonio legato ai borghi, alle tradizioni, alla ruralità, al paesaggio, ai costumi dei comuni delle aree interne. Con questa iniziativa ci auguriamo innanzitutto di sviluppare un dibattito concreto che possa portare alla realizzazione di servizi di qualità e utili per favorire un maggiore flusso turistico nelle aree interne, determinando anche un incremento di questa microeconomia particolarmente importante e utile nei nostri comuni, ha dichiarato il Presidente dell'ente Parco, Tommaso Pellegrino. E dunque ci fermiamo ancora una volta dopo la pubblicità di nuovo in onda con gli ultimi servizi del Tg di oggi. Fisiomedica, fisioterapia, rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici, ozonoterapia, tecar e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, Vianiti 1 Agropoli Salerno. Per ogni tua esigenza di spostamento Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Cilento Rent. Ad Agropoli, Capaccio, Castellavate. www.cilentorent.com Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Letisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Letisane di Zara. Info 333 90 26 266. Focus Point fa la differenza. Griff delle migliori marche. Riparazione occhiali. Pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista. Centro applicazioni lenti a contatto. Focus Point. Via Alcide de Gasperi 22. Agropoli, Salerno. Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2000 metri quadrati di showroom, pavimenti e rivestimenti delle migliori marche. Vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori. Santo Mauro, materiale per l'edilizia. Capaccio Scalo, Salerno. Psicofisico, studio di nutrizione e benessere. Dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Si effettuano piani nutrizionali personalizzati. Studio di nutrizione e benessere. Dottor Andrea Ricci, pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Convergenze, internet, phone, tv, energie. Ben ritrovati. Dopo la pubblicità terminiamo il nostro telegiornale con gli ultimi servizi di oggi. I medici dermatologi del Pascale saranno in Cilento per la prevenzione al melanoma. Vediamo. Medici dermatologi dell'Istituto Nazionale Tumori di Napoli dell'ospedale Pascale, capitanati dall'oncologo Paolo Ascerto, arriveranno nel Cilento per la prevenzione contro il melanoma, tumore della pelle il cui rischio aumenta con l'esposizione al sole. I dermatologi faranno tappa in varie località cilentane. Sabato 18 luglio saranno ad Agropoli dalle ore 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Nel comune di Capaccio faranno tappa il giorno seguente, 19 luglio, sempre dalle ore 9 alle ore 13 la mattina e nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Il camper arriverà il giorno 31 luglio nel comune di Cicerale. Le visite di prevenzione saranno effettuate dalle ore 15 alle ore 18. Il giorno 1 agosto, invece, il camper sarà ospite del comune di Palinuro dalle ore 9 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle 18. Ed infine l'ultima tappa è prevista per il 2 agosto a Vallo della Lucania dalle ore 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. E ora i servizi dei nostri corrispondenti da Salerno e dal Vallo di Diano. Anche il comune capoluogo, tramite le parole dell'assessore al commercio Dario Loffredo, si dice favorevole all'anticipo dei saldi estivi nella nostra regione al 20 luglio, così da venire incontro alle esigenze dei commercianti. Un modo per cercare di dare una spinta all'economia e al lavoro dei negozianti, che sono stati una delle categorie più colpite dall'emergenza e dal lockdown che ha fermato i negozi. In un primo momento la regione Campania, così come altre regioni, aveva deciso di far partire saldi dal 1 agosto. Ma ora, su mozione del Movimento 5 Stelle, il Consiglio regionale ha scelto di anticiparli al 20 luglio. Da lunedì dunque sarà ufficiale. Io sono favorevole a questa decisione. Credo che i tempi siano assolutamente cambiati in generale. Quindi bisogna fare una riflessione per i saldi al di là del lockdown. Ancora di più quest'anno, con la chiusura forzata di 70 giorni, era doveroso, secondo me, dare la possibilità di mettere i saldi ai negozi e anticiparli per dare quell'impulso, quello stimolo. Perché sembra niente, ma le persone, le famiglie colpite da questo lockdown che passano dai negozi e vedono quella fatidica scritta a caratteri cubitali saldi, saldi è veramente un incentivo. Quindi è importante, però credo che già dalla prossima primavera dobbiamo ragionare con tutti i tavoli delle associazioni di categoria, col sindaco, con la regione Campania, affinché secondo me ci voglia proprio una nuova rivisitazione del concetto di saldi. Verrà recintata una delle piazzole di via Polaris, dove con cadenza periodica nella zona orientale di Salerno, l'amministrazione comunale in collaborazione con Salerno Pulita deve intervenire per rimuovere discariche di rifiuti a cielo aperto. L'ultimo intervento in ordine di tempo questa mattina con gli operatori di Salerno Pulita che con i vigili urbani e davanti agli occhi del sindaco di Salerno hanno effettuato un sopralluogo e bonificato le aree da rifiuti di ogni genere. Ma a proposito di salvaguardia ambientale, il sindaco di Salerno questa mattina ha ribadito il suo appello al prefetto che ieri ha ricevuto una lettera congiuntamente firmata da altri tre primi cittadini della costa a sud di Salerno per chiedere un tavolo tecnico utile a predisporre delle soluzioni per garantire una migliore qualità delle acque. Noi ci rivolgiamo alla prefettura con fiducia ed amicizia perché abbiamo sempre avuto riscontro in quanto a professionalità e in quanto a disponibilità da parte del prefetto e di tanto gli siamo gradi. Vedremo nel corso, i sindaci che hanno firmato sono quelli che afferiscono agli aspetti di Viraschi di più stretta pertinenza e insieme vogliamo svolgere un'azione di repressione e di controllo che credo possa essere utile ai nostri territori. Dalla salvaguardia ambientale al controllo sulle spiagge. Da domani partono anche una serie di servizi proprio sui lidi che bagnano il comune Capoluogo. Arribba dirlo ancora il sindaco di Salerno alle prese tra l'altro in queste ore con un'emergenza legata ad ulteriori contagi. Ieri altre due persone sono risultate positive al covid nella città di Salerno e i controlli sulla spiagge serviranno anche a garantire il rispetto dell'enorme anticontagio. Partono domani ma diciamo sono delle squadre che operano un'azione di dissuasione e di invito a mantenere il distanziamento di sicurezza e avere comportamenti conformi alle prescrizioni più recenti che poi sono quelle di sempre. Distanziamento di sicurezza, mascherine laddove ci siano degli assembramenti, pulizia delle mani, siamo a mare quindi più o meno ci dovrebbero essere comunque. Ma soprattutto il tentativo di far passare il messaggio che ciascuno è responsabile di se stesso e degli altri. Se non scatta questo meccanismo intimo probabilmente non ci sarà azione repressive che sia sufficiente. Quindi noi lasciamo al momento repressivo l'estrema razio. Per ora tentiamo di svolgere una funzione di moral suasion, di incitamento. Se serve naturalmente interverrà la battuglia per elevare le contravenzioni ma speriamo che questo non sia assolutamente necessario. Sempre più drammatica la situazione per il Sud dopo l'emergenza Covid. Il meridione d'Italia, sempre più in grande affanno, vede la sua condizione economica ulteriormente peggiorata con un livello occupazionale che si abbassa ulteriormente e che rischia di condannare il Sud dall'eterno assistenzialismo. Il quadro sconfortante per le regioni del Mezzogiorno viene fuori dagli ultimi dati resi noti dalla Svimez, Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno che ha presentato le anticipazioni del rapporto 2020. Un quadro che vede sempre più affievolirsi le speranze per una ripresa del Sud dal punto di vista economico e che nella presentazione non vengono utilizzati mezzi termini per descrivere una situazione esistente. Seppur manca ancora la presentazione ufficiale delle anticipazioni del rapporto che avvenivano sempre nel mese di luglio, saltata per quest'estate, non si rinuncia a rendere noti i dati emersi dalla prima analisi della situazione del Sud dopo questi mesi di emergenza. Già particolarmente critico lo stato occupazionale dopo il lockdown, secondo le previsioni della Svimez le stime potrebbero far emergere dati ancora più preoccupanti, valutando la situazione regione per regione e avvalendosi dell'ulteriore supporto derivante dall'analisi relativa agli effetti delle misure decise dal Governo sul Meridione. Pesa l'assenza di un vero e proprio piano di sviluppo per il mezzogiorno, che secondo quanto riferiscono dall'Agenzia potrebbero spingere sempre più verso un sistema economico basato sull'assistenzialismo. Pesa in maniera forte anche la mancata attivazione delle zone ZES, ossia le aree d'economia speciale, dove eventuali investimenti dal punto di vista industriale ed imprenditoriale potrebbero facilmente decolare nel Sud. Nelle anticipazioni della Svimez si trova anche un accenno alla questione MES, che secondo gli esperti andrebbe speso interamente per il sostegno alla salità del meridione, viste le gravi carenze e la retratezza del settore nelle regioni del Sud. Il Governo insomma dovrebbe necessariamente effettuare importanti investimenti nel mezzogiorno per cercare quantomeno di ridurre le norme di vario con il centro-nord. Resta l'incognita disoccupazione che nel Sud si aggira intorno al 30%, dato peraltro non ufficiale. Le misure fin qui adottate, sia per creare occupazione che per far riemergere il lavoro sommerso, non hanno prodotto gli effetti sperati, con preoccupazione forte per chi ha usufruito del reddito di cittadinanza, quando, finita l'assistenza, non avrà nessuna opportunità di poter accedere ad un lavoro stabile. Elementi questi, chioniti a dati presentati nei giorni scorsi da Istat in riferimento all'emigrazione dal Sud verso il Nord o verso paesi esteri, provocando uno spovolamento del mezzogiorno, lasciano un quadro devastante di questo Sud e affievolendo ogni speranza per i giovani di restare nella propria terra d'origine. In chiusura due notizie. La prima riguarda la Madonna di Costantinopoli di Agropoli e quindi i festeggiamenti del 21, 22 e 23 e 24 luglio. E prima di chiudere una comunicazione di servizio per quanto riguarda l'emittente televisiva Cilento Channel. Purtroppo il telegiornale la prossima settimana non andrà in onda per motivi tecnici, quindi ci rivedremo il 27 luglio. Grazie per averci seguito e l'appuntamento è rinnovato a una prossima occasione. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.